Un altro lutto nella nostra redazione è morto improvvisamente il collega Lino Pitto, era redattore territoriale a Messina, un omaggio e un ricordo nel servizio di Guglielmo Troina. Lo ricorderemo sempre come un collega appassionato del suo lavoro, profondo conoscitore della realtà che raccontava, ma soprattutto per il suo spessore umano. L'improvvisa scomparsa di Lino Pitto, 56 anni, redattore territoriale a Messina della TGR, morto a Milano, ha lasciato a toni di quanto l'hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le qualità professionali e le rare doti umane. In Rai da oltre 20 anni Lino era un volto notissimo in tutto il mondo, il suo nome infatti era legato allo sport e allo racconto delle gesta delle squadre nel nostro massimo campionato di calcio ai italiani nel mondo, attraverso Rai International e trasmissioni popolarissime come la giosta del gol, importante anche la sua esperienza a Rai Sport. Quattro anni fa poi Pitto aveva scelto di tornare nella sua Messina come redattore territoriale della TGR, cronista di razza, ha raccontato tutte le spaccettature di quella realtà, impegnandosi sempre nei suoi servizi ad andare oltre i fatti, dando voce a tutti i protagonisti, interpretando così l'autentico spirito del servizio pubblico radio televisivo. Lino Pitto lascia la moglie e due figli, a loro va il cordoglio e l'affettuoso abbraccio di tutti i colleghi della TGR Sicilia e del direttore della TGR Vincenzo Morgante.